A Lucca per questo bel evento all'ostello San Frediano, perché siamo qui? Siamo qui perché a noi ci piace interessarci di musica, di quella vera, di quella buona, di quella che parla di giovani e c'è un artista di Lucca, Toscano, pieno, va di moda a dire energia, si chiama Simone Franchi, presenta il suo nuovo singolo con uscita anteprima nazionale qui all'ostello San Frediano ed è I Wanna Know. E allora io cercherò di farvi vedere un po' di video, cercherò di fare vedere un po' di live, perché Simone farà un pezzo qui insieme ai Monkey Brothers e poi cerchiamo di conoscerlo per saperne di più. Ah, io sono Alessandro Martini, avevo dimenticato. Come va Simone? Lui è Simone Franchi, bella serata, presentazione del tuo ultimo video, I Wanna Know, detto bene? Sì, è un singolo, no? Che ha presentato questa sera, dove siamo? All'ostello San Frediano, Lucca. Quindi bella location, tanta bella gente, tantissimi amici, tante persone che ti vogliono bene. Questo ragazzo in realtà è di un emozionato incredibile, perché, vabbè, è sempre un'anteprima nazionale, ha fatto concerti un pochino in giro, così non è che è la prima volta che canta davanti al pubblico, però questa sera sentivo un'emozione diversa, no? Sì, perché giustamente è una cosa mia, fatta da me, appunto tutta la gente che è venuta, è venuta esclusamente per sentire me, stasera invece dovevo appunto dare il meglio, dare il 100, quindi spero che sia piaciuto. Allora, il video l'hai girato qui con dei professionisti, tra l'altro un bel lavoro, ho girato qui a Lucca. Ringrazio appunto la CIG Maxicom, tutti i musicisti che hanno partecipato alla cosa, vabbè, il mio produttore che è Gianni Bini, e vabbè, Giorgio Brogi che mi è stato molto vicino in questa cosa, e niente, tutti gli amici che sono di stasera. C'è ancora qualche progetto che già sta? Ci sono altri due pezzi che sono in cantiere e pronti per essere appunto in uscita, e vediamo appunto come andrà questo singolo. Ok, Simone Franchi, I Wanna Know, singolo, ripeti, iTunes, tutti i punti vendita virtuali? Sì, probabilmente è strettamente, non dico riservato, però principalmente si può comprare appunto online, su, vabbè, iTunes è il portale più grosso appunto come vendita, e poi dal 9 settembre il video sarà su YouTube, Instagram e altri portali, basta citare Simone Franchi, I Wanna Know. A tutto social, 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 Simone Franchi, I Oddhole. Socorro 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 Oh Grazie. 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 Grazie.